Marini ci vuole, con la scritta Fibir Resi Smontagomme, attrezzature per officina, sollevatori per moto Problemi? C'è Antonio Tosi della Star, andiamola a trovare e gli facciamo una bella intervistina Ciao! Sono Antonio Tosi, titolare della Tosi Serni Cic in Sella Lavaiano Siamo un'azienda specializzata in attrezzature e materiali per confisti e officine Siamo specializzati in smontagomme e ponti sollevatori I nostri smontagomme sono da moltissimi anni ormai l'unica soluzione per montare i pneumatici off-road in maniera facile Siamo rivenditori beta Milwaukee, ufficiali e abbiamo tutta un'altra serie di prodotti di marchi premium italiani Il 2024 è nato sotto una buona stella perché abbiamo presentato il nostro nuovo ponte sollevatore che è il più compatto che c'è in circolazione perché ha già la pompa idroprenatica a porto non vi fa fare più fatica perché non dovete più premere con la vostra gamba n volte la pompa per farla salire ma basta un piccolo compressore con una piccola portata d'aria per far salire i 500 kg di portata del nostro ponte è totalmente fatto in Italia, polveri possibili di verniciatura e zincatura delle parti esterne molto resistente, non è il basic che vi trovate in circolazione su internet